La stagione balneare si avvicina e gli imprenditori del settore si trovano ancora di fronte all'aumento dei canoni demaniali addizionali da parte della Regione, che arriva fino al 100% con gravi ricadute sull'intera economia turistica. Il Tar ha disposto una decisione nel merito, che però arriverà soltanto il 24 luglio, quando la stagione sarà largamente compromessa. Per questo motivo siamo vicini alle imprese, che si trovano in grande difficoltà. Ad affermarlo la segreteria regionale del PD, guidata da Assunta Tartaglione. Antonella Oliveri, responsabile imprese, ieri pomeriggio ha incontrato nella sede di Via Santa Brigida alcuni rappresentanti del settore. Ai nostri microfoni la stessa ha affermato. La stagione è alle porte, quindi è chiaro che le imprese balneari hanno una serie di necessità che ad oggi sono state un po' tenute al di sotto, diciamo, delle loro esigenze. Quindi è importante che in questo momento, anche noi come Partito Democratico, cerchiamo di sostenerli, perché l'impresa balneare fa parte dell'impresa turistica ed è fondamentale in una regione come la nostra spingere questo settore. Quindi noi ci preoccuperemo sicuramente a livello regionale di fare una programmazione del 2014 con un vasto interesse per questo tipo di imprese.